E' pesante e non lascia spazio a interpretazioni l'affondo che il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola ha stoccato ieri sera nel corso del Consiglio Comunale a Riviaracqua la società consortile pubblica di gestione del ciclo idrico integrato dei comprensori imperiese andorese. Scaiola ha infatti evidenziato come leggendo lo statuto di Riviaracqua tutti avrebbero dovuto capire fin dall'inizio che la società pubblica era un bidone e che non poteva avere possibilità di successo. Sempre in merito alle questioni del ciclo idrico, il primo cittadino d'Imperia ha anche bollato come folle il referendum che portò alla scelta sull'acqua pubblica. Claudio Scaiola ha anche evidenziato come abbia fatto bene la precedente amministrazione comunale guidata da Carlo Capacci a non entrare in Riviaracqua che oggi ha dovuto ricorrere al concordato preventivo e rischia di trascinare in un baratro anche molte imprese private. Per quanto riguarda il depuratore d'Imperia, Scaiola infine ha ribadito che se il 15 aprile data dell'ultima verifica tecnica non ci saranno precise garanzie sul funzionamento futuro il Comune ne toglierà la gestione a Riviaracqua.